spinelli una famiglia la sua terra il suo vino simply market falcone via 4 novembre 67 a tessa ben ritrovati all'ultimo appuntamento con i quattro candidati sindaci per le prossime elezioni comunali che si daranno qui alla tessa il prossimo 11 giugno ovviamente si voterà in altri comuni ma noi ci soffermeremo e ci siamo soffermati sulle prossime elezioni sul comune d'altronde dove risiede anche la nostra emittente e ringraziamo ovviamente oltre agli sponsor il pub Landriano dei fratelli Marra che ci ha ospitato per questa lunga e quasi una maratona questa registrazione però speriamo di aver fatto cosa gradita ai nostri amici da casa l'ultimo argomento prima dell'appello al voto dei candidati avrà quest'ordine Fioriti, Borrelli, Pellegrini e Falcone lo dico subito così vi preparate allora io l'avevo chiamato carenza di personale però lo vorrei un po' estendere praticamente ero partito da una considerazione che il comune di Atessa è sottodimensionato e di un sacco per quanto riguarda il personale personale che serve anche per esempio per intercettare i bandi bisogna che ci siano delle persone che siano incaricate di farlo però se siamo quasi a un terzo del personale è un po' difficile farlo oltre alla carenza di personale e la carenza di risorse quindi in parole povere ci sono poche risorse come si intende spenderle visto che dallo Stato centrale ne arrivano sempre di meno di fondi è vero durante le campagne elettorali si fanno le promesse però spesso bisogna scontrarsi anche con la realtà voi come intendete operare Fioriti? è chiaro che c'è un problema di deficienza di organico come c'è in quasi tutti i comuni italiani rispetto chiaramente a qualche anno fa quando erano tempi di vacche grasse però ciò non significa che il problema non vada assolutamente affrontato la prima cosa che mi viene in mente che necessariamente occorre fare è quella di avere un buon responsabile del personale e un buon segretario generale con queste due figure cercare di ripianare quelle che sono le deficienze che possono essere, non so neppure se ci sono o meno però cercando di, attraverso queste persone, cercando di ripianare quelle che sono le lacune esistenti nel senso di una maggiore distribuzione di lavoro una maggiore rivisitazione degli incarichi qualche cosa che comunque metta le persone in condizione di poter svolgere anche più lavori dove è possibile e dove chiaramente vi è la disponibilità tutti siamo in difficoltà a livello strutturale oggi se c'è maggiore disponibilità da parte delle persone e magari da parte degli stessi impiegati forse riusciamo a superare la fase della carenza di organico secondo me è necessario però che ci siano delle direttive ben precise fermo restando che su alcune cose tipo il ripianamento della polizia locale e il potenziamento di questa noi saremmo sicuramente davanti a tutti a cercare di fare in modo che in un modo o in un altro superando anche la legge di stabilità si trovino i fondi per poter risanare questa lacuna che assolutamente serve alla città perché c'è necessità di far vedere delle divise in giro divise soprattutto della polizia locale che vogliono vedere addirittura nelle contrade vogliono vedere la divisa della polizia municipale della polizia locale e noi abbiamo il dovere di rispondere a questo appello della gente perché se lo vogliono vedere significa che hanno timore di qualche cosa e quindi c'è una insicurezza diffusa che va assolutamente sanata Bene, sempre su questo argomento ma più in generale se vuole anche sul bilancio Giulio Borrelli di Uniti per Atessa Sì, naturalmente sappiamo di vivere in un'epoca di vacche magre le ristrettezze di bilancio valgono per tutti valgono per tutti i comuni d'Italia e valgono naturalmente per Atessa chiunque amministri e chiunque lo amministrerà purtroppo questa è la situazione delle casse pubbliche per una serie di ragioni che molti cittadini naturalmente conoscono e quindi bisogna adeguarsi e adattarsi a questa situazione io penso comunque che pur nella ristrettezza di risorse alcune priorità vanno individuate il personale del comune deve avere soprattutto un maggior numero di vigili urbani che controllano il territorio al centro e alle periferie non solamente nei momenti di massimo afflusso di feste, di cerimonie e di cose più importanti ma quotidianamente forse questo controllo porterebbe anche a vedere che se quelle centraline che sono state messe per il controllo dell'area alla valle effettivamente danno i risultati che si dicono e se l'aria è veramente così pulita come si dice da segnalazioni che vengono fatte dai cittadini che naturalmente andranno verificate le cose non sembrano stare così questo dipende anche dal fatto appunto che i controlli mancano perché il personale manca uno dei modi per risolverlo sono i dati dell'arta ma il comune può chiedere di verificare il comune può chiedere di verificare può andare a vedere, può rispondere alle segnalazioni dei cittadini e può sulla base anche delle segnalazioni dei cittadini intervenire dagli abitanti di Saletti a quelle di Piana Lafare noi abbiamo raccolto una serie di segnalazioni di aria che soprattutto in alcune ore della giornata di maggior traffico e di afflusso nelle fabbriche in conseguenza anche degli scarichi industriali di quella zona che ha così tante fabbriche l'aria non è esattamente pulita e respirabile sappiamo che la responsabilità attiene alla regione e all'arta ma una vigilanza e controllo del comune anche su questi aspetti che riguardano le responsabilità di altri enti oltre che per accrescere la sicurezza nel nostro territorio richiedono per quello che riguarda il personale il primo investimento noi pensiamo vada fatto per quello che riguarda i vigili urbani che devono stare sul territorio e controllare tutti gli aspetti del nostro territorio questo si può fare anche aumentando la collaborazione e un consorzio con altri comuni e dividendo un po' le spese per quello che riguarda alcune attività che si possono fare in modo consortile con altri comuni Bene, io volevo che si parlasse anche un po' del bilancio non so se vuole parlare Enzo Pellegrini di Liberatessa No, io volevo fare due precisazioni parcheggi attrezzati per gli autotrasportatori in zona industriale il parcheggio che si riferiva all'amico Emilio è un parcheggio di competenza del Consorzio Industriale governato e amministrato dall'Arap con Presidente Consiglio di Amministrazione nominato Giunta Regionale d'Alfonso con cui fa parte l'amico Borrelli e c'è anche un nostro concittadino che è il Presidente, l'amministratore delegato di Arap Servizi un certo Giuseppe Cellucci noi invece sulla zona PIP che è di nostra competenza abbiamo attrezzato il parcheggio con la presenza di Fontana e di Servizi Pubblici questi sono i fatti per quanto riguarda il personale non è un problema di risorse forse a qualcuno è sfuggito è il problema del blocco del turnover quindi fino all'anno scorso ci stava il blocco del turnover che diceva una cosa molto semplice che ogni 5 persone che andavano in pensione ne poteva riassumere una quindi non è un problema di risorse adesso forse finalmente a partire da quest'anno ci sarebbe la possibilità probabilmente di assumere un pensionato e riassumere un nuovo dipendente con la situazione attuale e con i pensionamenti in programma durante quest'anno noi saremmo in grado di assumere per l'anno venturo dovremmo assumere potremmo assumere 5 unità e ovviamente queste 5 unità saranno maggiormente destinate al corpo della polizia urbana perché lo sappiamo benissimo che è stato ridotto quasi annullato attualmente abbiamo in servizio tre vigili urbani di cui uno va in pensione il mese prossimo e uno è in malattia perché ha avuto un problema cardiaco quindi di effettivo abbiamo un unico vigile urbano stiamo supplendo con alcuni vigili a tempo determinato quindi non è un problema di risorse è un problema di leggi nazionali che impongono ai comuni come si devono comportare sull'aspetto del personale e sull'aspetto del bilancio mi preme sottolineare a più righe il fatto che il bilancio del comune di Atessa è in regola con tutti i conti con tutti i parametri l'ultimo documento approvato e cioè il consuntivo del 2016 non ha nessun tipo di problema e quindi i cittadini possono stare tranquilli sotto questo punto di vista bene chiudiamo con Emilio Falcone del Movimento 5 Stelle preannuncio che poi nel giro successivo ripartiremo proprio da lui e faremo poi Fioriti, Borrelli e Pellegrini vedo che Fioriti è un po' perplesso però a fine della trasmissione vi farò vedere lo schema e vedrà che è tutto secondo quello che abbiamo stabilito all'inizio allora Emilio Falcone del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda questo punto infatti l'hanno detto ben detto gli altri componenti e candidati sindaci che comunque sia bisogna tenersi a una legge nazionale che vincola certi parametri ovviamente di cui tener conto anche sotto questo punto di vista io mi collego al fatto che rappresento una forza che è rappresentata nei vari gradi istituzionali e ovviamente si spera sempre nel cambiamento anche a livello governativo per fare in modo che una problematica di questo genere ma anche tante altre problematiche del territorio locale possano essere portate direttamente al governo una volta che possa cambiare vedendo l'antamento nazionale che sta portando avanti questo movimento per quanto riguarda un altro punto che ovviamente abbiamo riscontrato dalle segnalazioni dei vari cittadini è la mancanza ovviamente mancano un po' di risorse per quanto riguarda la polizia municipale e ovviamente strada facendo durante il corso di un'amministrazione si vedrà come poter risolvere al meglio il problema bene diciamo gli argomenti che avevo preparato sono esauriti con quest'ultimo intervento di Emilio Falcone candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle e iniziamo proprio dallo stesso Emilio Falcone in norma possiamo resettare la tempistica perché credo un minuto sia sufficiente per l'appello al voto credo o dobbiamo mettere di più no penso sia sufficiente un minuto quindi l'appello al voto votate allora l'appello al voto di Emilio Falcone del Movimento 5 Stelle prego per quanto riguarda cittadini per quanto riguarda ci stiamo facendo conoscere siamo nati da poco ma comunque sia vogliamo continuare a lavorare siamo una forza giovane non siamo politici di professione e non abbiamo intenzione di diventarlo perché questo è il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle uno dei principi fondamentali è quello del doppio più di due mandati non si può fare cosa significa? rendere partecipi tutti quanti nella vita politica amministrativa ma questo non significa che ognuno ha libertà decisionale significa condividere dei principi condividere delle proposte segnalare i problemi e questo significa anche essere attivi e fare in modo che tanti ragazzi giovani come me si appassionino e tornino ad appassionarsi alla politica per il futuro di Atessa per il futuro dell'Abruzzo ma per il futuro dell'Italia dobbiamo cercare di tornare ed essere uniti tutti insieme per salvare il nostro paese Bene grazie a Emilio Falcone candidato sindaco del Movimento 5 Stelle chiudiamo con Carmine Fioriti della lista Progetto Atessa Allora noi siamo una forza anche noi giovane non io ma la mia componente è abbastanza giovane che si presenta a queste elezioni e tutti hanno potuto vedere che cerchiamo di non essere contro nessuno i voti dati a noi sono assolutamente dati a noi e basta non sono rubati a nessuno perché comunque sia quei voti non sarebbero andati a nessuno quindi sono voti che se vengono a noi vengono per il fatto per il nostro programma per le persone che la rappresentano e per il fatto che vuoi o non vuoi noi ci ritroviamo a svolgere un ruolo di centrodestra in questa città perché questo perché comunque il MAUPD è un po' a sinistra liberatessa pure è sceso a sinistra sia attraverso la posizione degli immigrati sia attraverso l'elezione del rappresentante provinciale del presidente provinciale sia con la questione delle foib con la questione dell'ampio eccetera certamente non sono posizione di destra noi ci troviamo a svolgere questo compito per questo diciamo ai cittadini osate oggi cercate di osare venendo verso di noi grazie bene grazie anche a Carmine Fioriti di progetto Atessa e chiudiamo adesso con Giulio Borrelli di Uniti per Atessa un solo esempio un esempio finale la manutenzione delle strade e gli asfalti di questi giorni sono stati decisi circa un anno fa con una variazione al piano triennale di 600 mila euro questo piano poteva essere attuato con un bando pubblico già nei mesi scorsi dando alla ditta vincente l'appalto di tutti i lavori quei 600 mila euro sono stati frazionati con 15 16 interventi diversi ognuno dei quali sotto i 40 mila euro che non richiede l'appalto pubblico se fosse stato fatto il bando come era doveroso fare avremmo avuto come succede in questi casi un risparmio del 20-30% quindi su quella cifra di 600 mila euro avremmo potuto risparmiare dai 120 ai 150 mila euro a proposito di insegnamento su come si amministra e dirige un bilancio del Comune di Atessa Bene grazie anche a Giulio Borrelli della lista Uniti per Atessa l'ultimo intervento l'ultimo appello è di Enzo Pellegrini di Libera Atessa Bene io faccio un appello a tutti i cittadini di Atessa di valutare attentamente l'operato dell'amministrazione a cui io ho preso parte in questi dieci anni valutarlo per tutto ciò che ha fatto nei dieci anni di amministrazione per la quantità e la qualità dei risultati ottenuti su tutti i settori opere cultura sociale sport attività produttive abbiamo governato in maniera trasparente onesta e garantendo sempre tutti i cittadini e trattando tutti i cittadini in maniera uguale con questo spirito con questa formazione e soprattutto con l'esperienza che ho acquisito in questi dieci anni di amministrazione con tutta la squadra che mi ha sostenuto negli anni precedenti ci ha sostenuto oltre a tutti i nuovi che sono entrati in lista noi siamo convinti di poter continuare ad amministrare bene per cui vi chiedo di scegliere Libera Atessa grazie a tutti i nostri ospiti i candidati sindaci di Atessa si voterà quindi lo ricordiamo il prossimo 11 giugno grazie al Pablo Andriano che ci ha ospitato per questo interessante dibattito con i candidati sindaci grazie e arrivederci